Hi princess, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Irene, amo il makeup e oggi andremo a truccarci con la nuova palette di Be Perfect Che sicuramente avrete visto tutti, è un gioiellino, si chiama Interstellar ed è veramente qualcosa di spaziale Adesso vi mostro l'interno, un velo Sono molto emozionata di fare questo video e soprattutto di provarla per la primissima volta insieme a voi Intanto guardiamo un attimo lo schema colori, non so se conoscete le altre palette di Be Perfect Però questa qui secondo me ha due differenze che la rendono un po' più particolare rispetto alle altre Che più o meno vertono sempre sull'essere belle ciotte, importanti e avere tantissimi cialdi, tantissimi colori abbastanza sgargianti Però la differenza più evidente secondo me è questa sezione qui con dei grigi Non ricordo delle palette con questa sezione grigia tra le altre E soprattutto mi piace, mi dà un senso di pace questa cosa che per ogni colore abbiamo diverse intensità Prendiamo per esempio il viola, abbiamo il viola scuro e poi tante tonalità più chiare Questo è comodo perché volendo possiamo realizzare un look totalmente viola e abbiamo dei colori di transizione con cui creare la nostra struttura e sfumatura E anche qui abbiamo degli shimmer che si abbinano molto bene Stesso discorso per esempio con i fucsia, con i verdi, con i blu, con i neri, con i grigi Insomma molto molto interessante e direi di iniziare subito il nostro make up Per preparare la palpebra ho applicato sempre di Be Perfect il Perfect Prime Che è appunto un primer occhi che tuttora ho da tantissimo tempo e tuttora penso sia uno dei miei primer occhi preferiti Lo vado a sfumare con la blender e magari iniziamo facendo soltanto un occhio Comunque amici fatemi sapere cosa ne pensate dello sfondo, della qualità del video Io ovviamente faccio quel che posso e soprattutto anche se non so di preciso quando andrà online questo video Probabilmente vi chiederete che fine io abbia fatto perché avevo iniziato a pubblicare qualcosina poi sono totalmente sparita Non scenderò nei dettagli, chi mi segue sugli altri social sa più o meno cosa è successo da un po' prima dell'estate Non è stato un periodo facile per me, ho abbandonato YouTube per forza di cose Perché già anche soltanto fare video è stato abbastanza complicato Bisogna essere comunque sui denti, positivi, sui social Non si può mascherare più di tanto se si ha uno stato d'animo un po' altalenante Però YouTube ecco in cui si sta qua si parla per 20 minuti Era proprio una cosa che non riuscivo a fare Spero di riuscirci adesso e di portarvi un po' di positività, un po' di compagnia, sorrisi e quant'altro Allora direi di iniziare Vorrei fare un Halo Smokey Eyes Con che colori? Non lo so Vorrei comunque fare qualcosa di colorato Quindi non andrei oggi con i grigi ma o con gli azzurri o con i viola Se no fare tipo viola e giallo Non lo so che dite Vabbè voi non potete dirmi niente giustamente Però sì, adesso me la guardo un attimo perché non so da dove cominciare Trovo l'ispirazione Lascio che pennello usciare Che pennello uso Questo è bagnato Allora ho deciso di fare qualcosa sui violacei E penso che inizierò con il viola più scuro Sbatto via l'eccesso e inizio ad applicarlo Per creare appunto la classica struttura delle Halo Smokey Eyes Magari ho sbattuto via l'eccesso un po' troppo Eccolo qui, eccolo qui Quindi faccio diciamo una V finale Per rendere comunque l'occhio un po' allungato E poi applico un po' di viola scuro Anche all'interno Qui Io spero che non si senta la ventola della luce Perché sento un pochino fare Speriamo bene Ora con un pennello pulito Vado a sfumare verso l'esterno Questa è una cosa che vi consiglio di fare Se non siete molto pratici con le sfumature Vi aiuterà a rendere tutto un po' più soffuso Senza fare macchie Senza che siano evidenti degli stacchi Tra un colore e quello che mettete dopo Eccetera eccetera Io vado Tamponando Comunque Bella punta di viola Mi piace E si è sfumato benissimo Ora sempre con questo pennellino Vado a prendere un colore un po' più chiaro Penso di prendere Light Here Che è un lilla Non troppo troppo chiaro E lo uso appunto come colore di transizione Tamponandolo sulla sfumatura Ora prendo di nuovo un pennello pulito E un'altra volta ancora Ho perso una setolina Ma perché? Ma perché? Io pelucchi che provengono dalla qualunque Dicevo Vado a sfumare i bordi Molto molto carino E facile per ora Intanto sono curiosa Fatemi sapere se vi piace questa palette Cosa ne pensate Se avete mai provato una Carnival E se la acquisterete Sono curiosa Ora però voglio fare una cosa Pazza Voglio prendere uno dei due gialli Penso di prendere quello un po' più intenso Sempre con questo pennellino Che ho usato per sfumare E appunto usarlo Per sfumare ancora meglio Verso l'esterno Una scelta saggia Lo scopriremo tra pochissimo Io adoro la combo Viola e giallo In generale Le combo colori Complementari Tipo che ne so Arancione E viola In realtà è ancora più complementare Blu e giallo Non lo so Guardate un po' qua Mi piace molto questa situazione La sfumatura si sta praticamente Facendo da sola Io sfumo un po' così E' molto bello Mi piace La parte più divertente Sarà applicare il shimmer Secondo me impazziremo tutti quanti Dunque Sto intensificando ancora un pochino Con il viola Ne ho preso ancora un altro Rispetto agli altri due Che avevo utilizzato prima Boh così Giusto per provare Diversi ombrettini Anche questo molto bello Leggermente più acceso Rispetto agli altri due Che erano un po' più desaturati Anche se Uno era un bel viola scuro Era molto freddo Appunto Un po' desaturato Questo è un po' più brillante E riprendo il pennello sporco di giallo Che ha perso un'altra setola E sfumo Ora sono un po' combattuta Non so se applicare sempre viola Sfumato con il giallo Anche nella parte inferiore Però penso di sì Non vorrei andare a creare un pastrocchio Aggiungendo un altro colore Diciamo che la mia idea di oggi È fare un look Usando determinati colori E poi sugli altri social Quindi mi raccomando Seguitemi sugli altri social Eccetera eccetera Crearvi altri look Per prendere ispirazione Quindi magari fatemi anche delle richieste Irene usa i verdi Irene fai un look grigio Irene fai azzurro E fucsia Oppure tutto blu azzurro Scrivetemelo qui nei commenti Così io piano piano Vado a fare diversi look Anche perché questa palette La voglio veramente usare Come si deve Prendo il viola E me lo vado a tamponare Sempre sotto forma di halo Quindi qui e qui Vado ad applicare lo scuro Questa è la mia faccia Quando faccio Questa è la mia faccia Quando faccio Questa è la mia espressione Quando applico le cose Nella rima interna Sulla palpebra inferiore Io non so cosa dirvi Già che ci sono Mi sto intensificando Ancora di più tutto quanto Ricordiamoci che il makeup È sempre un work in progress Si applica un po' di ombretto Poi si va a sfumare Poi se ne aggiunge Un altro po' Per intensificare Poi di nuovo si va a sfumare Questo secondo me È il modo migliore Per non ritrovarci Con l'occhio da panda Perché magari abbiamo Esagerato E fatto un pastrocchio Da struccare Quindi si procede Per step Un po' per volta Ho bisogno di un penale Per piccolo Ma ora veniamo Al momento che tutti Parlamose chiaro Stavamo aspettando Dobbiamo applicare Uno shimmer E secondo me Qui in questa palette Be Perfect Ha fatto un salto Con gli shimmer Perché ci sono anche Alcuni che non sono Soltanto metallizzati Sbriuccicosi E quant'altro Ma ci sono Io penso Almeno 3-4 cialde Praticamente glitterate Cerco di farveli vedere Il più vicino possibile Vedete Queste due E il mio obiettivo È proprio prendere Questo colore È qui Meraviglioso Mamma mia Mamma mia Ok Ok Siamo pronti Io vi farò Un po' uno zoom Ok amici Io qui Ho il mio shimmerino No Mi viene da piangere Sto per piangere No ragazzi No No È favoloso No Amici Amici Anzi Princess Ah piccola precisazione Ho deciso di fare Questo saluto Hi princess Spero vi piaccia Fatemi sapere Perché Voglio seguire un po' Un feel rouge Avete sentito probabilmente La intro con Ok Con la canzoncina Quindi ci sarà un po' Questo feel rouge Disneyano Un po' così E ho deciso Di usare Il princess Perché qui siamo tutte Principesse Tutte e tutti Principesse Ok Torniamo al nostro shimmer Una volta tamponato Vado di nuovo Con il pennello sporco Del colore scuro Ovviamente Mi sistemo Tutto quanto Così Bellissimo Troppo 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 bello Troppo 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 bello Adoro E vorrei applicarlo Anche nella parte Della palpebra inferiore Quindi ci serve Un altro Pennellino di Grazia E lo Lo tampono Sempre facendo Le mie bellissime facce Vi prego Fatemi sentire Meno sola Io non riesco A fare Delle espressioni Normali Quando mi trucco Soprattutto appunto La parte inferiore Comunque ragazzi Bellissima Sono commossa Vado a fare L'altro occhio E torno Considerazioni finali Non so se ne faremo Perché mi sembra Palese Che ovviamente È troppo presto Per dare un parere Finale Definitivo Però ragazzi Se queste sono le premesse C'è sta poco da dire È bellissima Infatti sto pensando Anche di Regalare E declatterare Tipo la XL Che non uso da tantissimo Magari la riesco a dare A qualcuno Che la può sfruttare meglio Perché ormai Avendo questa Essendo molto più Recente E interessante Appetibile Appetitosa Ha più senso Continuare ad usare Comunque Vado a fare L'altro occhio E torno Ed eccomi di nuovo Da voi Con il look Terminato Ho aggiunto Ciglia finta E combo labbra Se vi interessa Ho utilizzato La Close Up Lip Shaper Di Nabla Nella tonalità 4 E poi Uno dei nuovi rossetti Di Nabla Tra l'altro Questi rossetti Meravigliosi Questa è la colorazione Eclipse Nude Dunque Cosa dirvi Su questa Nuova Carnival Mi piace tantissimo Prima impressione Ottima Come vi ho già accennato Creeremo altri look Faremo altri combo Colori Proveremo altri shimmer Che mi hanno Veramente Scioccata Questa è l'influenza Della True Crime Obiettivamente Lo schiena colore Mi piace tantissimo Mi sono trovata Molto bene Con gli opachi Lo shimmer glitterato In particolare Quello che abbiamo Utilizzato oggi È qualcosa di divino Come vi ho già detto Proveremo a fare Altri look Che verranno postati Su TikTok E su Instagram Quindi se ancora Non lo fate Vi aspetto a braccio aperto Venitemi a seguire Anche lì se vi va E attivate tutte le campanelle Possibili Immaginabili Già che ci sono Vi dico anche Di attivare la campanella Su Youtube Per non perdervi I prossimi video E iscrivetevi al canale Se ancora non lo fate Supportatemi E sopportatemi Vi invito nuovamente A farmi sapere Cosa mi pensate Di questa nuova Carnival Se l'acquisterete Se vi piace Che ne pensate Ovviamente fatemi sapere Anche se questo look Insomma vi è piaciuto Se questo video vi è piaciuto Spero tanto di avervi Tenuto compagnia Non vedo l'ora Di leggere i vostri commenti Ci vediamo Al prossimo video E vi mando Un bacione Grazie a tutti